Via Baldaccio sta andando avanti, a breve inizieremo a vedere la demolizione del tunnel attuale dove passano oggi le auto e quindi inizieremo ad avviarci verso la fine di questi lavori per un intervento importante. Via Fiorentina anche quel cantiere sta andando avanti perché stiamo appunto ultimando quelle che sono le lavorazioni che riguardavano i sottoservizi quindi la parte iniziale dell'intervento ancora di fatto oggi non è partito l'intervento per il proprio perché era necessario appunto portare avanti questi interventi propedeutici. Gli altri cantieri di entità minore stanno andando avanti perché siamo quasi alla conclusione di quelle opere che erano più importanti che stavano andando avanti. Quindi vediamo l'aria verde al poggio del sole che abbiamo fatto anche incontri con la soprintendenza proprio per definire le ultime cose e credo che nel mese di novembre verrà ultimata e quindi riusciremo ad avere l'aria finita. Abbiamo la rotonda di via dei Carabinieri che anch'essa abbiamo fatto un sopralluogo poco prima della fine di luglio, quindi pochi giorni fa e abbiamo anche lì definito gli ultimi interventi e come già possiamo vedere oggi appunto si vede un po' l'impronta della rotatoria e quello che sarà la fine dei lavori. Abbiamo il punto prelievi Baldaccio che anch'esso è un intervento che stanno montando gli infissi e siamo in fase di definizione anche lì credo che per ottobre e novembre avremo la chiusura del cantiere. Inoltre stiamo preparando, abbiamo già firmato i contratti per il braccetto scambiatore che collegherà appunto via Bonconte da Montefeltro fino a via Tarlati e anche lì credo che partiremo con i lavori più o meno nel mese di ottobre. La stessa cosa stiamo ultimando in la rotatoria di Santa Maria in cui apriremo il bando per l'assegnazione dei lavori a fine agosto e dopodiché partiremo anche in questo caso verso ottobre-novembre. Quindi questi sono i cantieri principali che sono in corso o in via di partenza appunto dei lavori e questi sono tutti i lavori che si sommano a quelli che il PNRR ci sta dando e quindi che stiamo comunque portando avanti. Quindi avremo sicuramente un fine 2023, inizio 2024 che ci darà sicuramente tante soddisfazioni perché riusciremo a portare a termine numerosi interventi di cui oggi stiamo vedendo i cantieri e vedremo l'inizio di tanti cantieri e quindi sicuramente ci sarà anche da stare attenti appunto su quelle che sono le variazioni che vedremo nella nostra città e quindi chiediamo anche un po' di pazienza ai nostri concittadini che in questo anno vedranno veramente tanti cantieri partire.